oggi prepariamo insieme la torta nua alle ciliegie alta soffice e profumata con un ripieno goloso di crema pasticcera e tantissime ciliegie vediamo insieme come realizzarla innanzitutto procuratevi delle ciliegie queste sono le prime ciliegie arrivate a conversano quindi sono piccoline ma sono buonissime denocciolatele io sto utilizzando lo snoccio la ciliegie ma naturalmente si può fare anche con un coltello tagliate le ciliegie a metà e tenete da parte passiamo alla preparazione della base per la torta quindi in ciotola le uova un pizzico di sale e lo zucchero io realizzerò la torta con una frusta a mano ma naturalmente potete utilizzare sia lo sbattitore elettrico che la planetaria quindi mescolate bene il tutto aggiungete l'olio poco alla volta lo yogurt mescolate bene fino a quando non si sarà assorbito aggiungete quindi la farina setacciata con lievito e quindi continuate ancora a mescolare raccogliendo tutta la farina a questo punto avrete ottenuto un composto liscio ed omogeneo aggiungete la scorza di limone grattugiata e le ciliegie poco alla volta trasferite il composto in una teglia imburrata infarinata livellate bene il tutto e a questo punto con l'aiuto di una sac à poche o di un cucchiaino aggiungete la crema pasticcera in superficie qualche ciliegia qua e là e infornate a 180 gradi per 50 minuti circa mi raccomando fate sempre la prova stecchino prima di sfornare quindi sfornate la torta e lasciatela intiepidire prima di sformarla su un piatto da portata spolverizzate con abbondante zucchero a velo ed ecco la nostra torta nua alla crema pasticcera e ciliegia sarà la torta più morbida che abbiate mai realizzato grazie per aver seguito anche questa videoricetta alla prossima ciao